E' qui dal Baggio, buonasera, si stanno entrando in campo adesso le squadre, seconda giornata di campionato, Dominos Legend contro FC Perego, i Dominos Legend schierano Armando, Buonasera, Crescenzi, Crucito, Fabiano, Frombola, Lussardi, Menoni, Morandotti e Padula, FC Perego invece risponderanno con Aldera, Cinelli, Colombi, Cortellini, Derisi, Denardi, Gallone, Giuliana e Serra, buona partita a tutti. Attenzione, grande occasione per il BFC Perego, conclusione, la risposta di Lussardi, poi il pallone rimane lì e si salva ancora Lussardi, rimessa lunga, svetta la conclusione da lontanissimo di Padula, gran risposta di Cortellini, pallone dentro per Serra che può calciare, guardare, porta avanti il Perego, Capitan Serra, allo scadere della prima frazione, controllo e destro, non ha potuto nulla in questo caso Lussardi e vantaggio Perego. L'anticipo di Martino che riparte, grande gara di Martino, break di Martino, può calciare Martino, calcia, palla fuori di un nulla, gran ripartenza del Dominos Legend, guidata da Martino che è arrivato al limite, calciato fuori. Tuplice fischio del direttore di gara, termina qui la prima frazione, sul risultato di 1-0 per il Perego, soffra spot. Fischio del direttore di gara, parte Colombi, centrale, spiazzato Lussardi, raddoppio Perego, ingenuità colossale della difesa del Dominos Legend e il gol del 2-0 del Perego e si accende il tifo in tribuna. Si chiude, Menoni al limite per Cavallo, l'appoggio per la conclusione tentata da Martino. Sì! 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 Sì!